buongiorno a tutti bentornati dal vostro produttore di fiducia allora torniamo a parlare di peronospora insomma è inverno e le malattie fungine vanno avanti sempre non si fermano mai abbiamo cos'era sì più di un mese fa insomma nel periodo natalizio abbiamo avuto un piccolo diciamo focolaio in una serra che abbiamo completamente debellato in quel caso abbiamo fatto vedere abbiamo tagliato esportato la parte diciamo una parte della pianta per toglierla da in questo caso non lo abbiamo fatto perché ora lo andremo a vedere però andiamo a vedere che la malattia non si sta muovendo assolutamente sicuramente era già morta sul nascere come nell'altro caso va bene io prima di andarvi a mostrare la pianta vi invito ad iscrivervi al nostro canale così da avere tante informazioni molto utile non solo per quanto riguarda la produzione come come dico sempre va bene andiamo a vedere la pianta voilà le voilà le voilà allora questa è la la malattia che è apparsa vedete la peronospora ora non ho avuto il tempo di fare il video quando quando l'ho vista era nel periodo quello in cui c'era il buio diciamo non c'era sole c'era poco sole nuvoloso ci sono stati quasi una settimana di senza sole abbiamo avuto insomma è apparsa questa malattia noi in quella settimana non abbiamo trattato abbiamo saltato il trattamento e ho visto questa malattia ovviamente la prima cosa che ho pensato è vado a fare un trattamento localizzato quindi sono andato a fare appunto un trattamento localizzato e subito dopo praticamente abbiamo ho visto la malattia si è bloccata infatti non ha nessuna peluria ormai saranno passate da quel non so più di una settimana insomma e quindi non si è mossa fino ad ora qui come si capisce come si capisce non non potevamo esportare la parte malata perché appunto guardate qui vorrebbe dire tagliare tutta questa diramazione della pianta che guardate in ottima salute guardate come lei si presenta la pianta vedete perfetta alle fioriture un ottimo colore qui siamo vicino la parte perimetrale qualche segno del freddo c'è guardate questi sono segnali del freddo però non è un peccato insomma andarla a togliere e quindi e quindi e quindi l'ho lasciata e basta è ferma si vede continueremo ad osservarla giustamente va monitorata perché potrebbe ripartire la malattia da un giorno all'altro e infestare la serra capite va bene questo ci siamo dai e niente era per darvi questo aggiornamento per farvi vedere come effettivamente è stata trattata sempre con le stesse sostanze che utilizziamo per la peronospora consigliamo propoli e rame andate a vedere i video dedicati ok giriamo un attimo come si fa a girare scusate faccio girare la testa ok sono di nuovo qua bene signori avete visto la malattia è completamente paralizzata come diciamo noi è ferma in uno stato praticamente è morta tutte le spore sono completamente morte però va ovviamente come abbiamo detto bisogna sempre monitorarla perché potrebbe ripartire da un momento all'altro va bene ok penso di essere stato chiaro ma faccio così perché per mettere a fuoco l'immagine va benissimo ora un'altra domanda sicuramente molti di voi si staranno chiedendo ma che razza di pomodoro è questo che diamine di pomodoro è beh questo lo scopriremo nel prossimo video mi raccomando fate i bravi picciotti e mangiate i pomodori buoni la voilà